Benvenuti a una nuova puntata di Celluloide, quest'oggi presentiamo due film che nonostante il nome dei registi, parliamo di Gianni Amelio e Woody Allen, sono dei film abbastanza sufficienti, il secondo anche abbastanza deludente. Il primo uomo di Gianni Amelio, presentato in anteprima nazionale in occasione del Bifest a Bari, tratto dall'omonimo romanzo o postumo di Albert Camus, pubblicato grazie a sua figlia, un romanzo ritrovato nella carcassa dell'automobile dove trovò la morte suo padre e pubblicato nel 1994. Racconta di uno scrittore, John Cormery, che torna in Algeria nel tentativo di ricostruire e conoscere soprattutto la vita di suo padre e quindi l'incontro con le persone che aveva frequentato suo padre, le vicissitudini e soprattutto quali fossero i suoi sogni rimasti in un anonimato dove non esiste né passato né avvenire. Cito delle parole che vengono pronunciate appunto da un attore nel film. E' quindi un film che cerca di ricostruire, abbastanza classico, classico perché la prima parte vede il racconto del protagonista dell'infanzia e la sua maturità negli anni 50, per essere precisi nel 57. Diciamo che la regia è abbastanza classica, quella utilizzata da Gianni Amelio, sebbene abbastanza statica, inquadrature fisse, qualche movimento di macchina che risultano funzionali solo all'azione. Anche la musica, il commento musicale, nonostante si tratti di un grandissimo compositore, Franco Pier Santi, è un commento musicale abbastanza classico, quasi scontato, insieme alla stessa fotografia. Non ne parliamo del doppiaggio, che nonostante a nove rinomi come Francesco Favino, Kimi Rossi Stewart e Giancarlo Giannini, diciamo il gota a non solo degli attori italiani, ma anche di coloro che hanno dato voce a grandi personaggi del cinema, anche a livello internazionale, risulta veramente non funzionale. Oltre che ci sono problemi da un punto di vista del labiale, quindi abbastanza deludente. C'è una frase che commenta e ci piace riportare qui nell'occasione della presentazione del film, colui che scrive non sarà mai all'altezza di colui che muore. E qui evidentemente colui che scrive non sarà all'altezza anche di colui che filma, per questa volta, nonostante il grande genio che ci ha sempre contraddistinti rispetto ai film di Gianni Amelio. Com'era mio padre? Testa dura, sempre testa dura. Mi piacerebbe vivere qua con te. Un giorno lo faremo. Un altro film deludente dal titolo To Rome with Love di Woody Allen, si sta facendo una grande pubblicità, risulta una sorta di brochure della città capitolina. Molto più bello il titolo originale, Bob De Cameron, che racconta una commedia abbastanza scontata, con tutta una serie di situazioni macchiettistiche e luoghi comuni abbastanza deludente. Gli hanno dato un grande ruolo. Hai marito un ragazzo molto buono, ho 150-160 IQ. Si tratta di euro, in dollari è molto meno. E anche qui una frase, ma nella città eterna niente cambia, non cambia niente anche nel paese in cui viviamo. Quindi l'unica cosa interessante del film di Woody Allen potrebbe essere solo questo. Del resto, anche la stessa recitazione di grandi attori, a cominciare da Benigni, è abbastanza deludente. Vi lasciamo una settimana non abbastanza ricca come quelle che si preannunciano nelle prossime. Alla prossima e buona visione!